E cambiamo argomento, anche l'ordine degli avvocati di Trani interviene sulla vicenda del possibile trasferimento del Tribunale e chiama in causa la politica per far fronte comune contro questa ipotesi sciagurata. Il rischio concreto è che Trani perda il suo Tribunale. L'allarme venne lanciato qualche mese fa, proprio attraverso Teledeon, dal presidente del Tribunale, Filippo Bortone, che puntò l'indice su due problemi collegati fra loro. Da una parte la carenza di immobili adeguate da assorbire tutti gli uffici e le ripartizioni del foro trenese, dall'altra la volontà del governo di accentrare tutte le strutture nei capoluoghi di regione per far fronte alla carenza di organico e di sedi. Il rimedio, come spesso avviene in Italia, è peggiore del male. Ma ora, dopo l'ennesima emergenza scoppiata a Trani per la situazione critica di Palazzo Gadaleta, la questione è tornata alla ribalta in tutta la sua gravità, con la candidatura di altre città del circondario di ospitare gli uffici giudiziari. In queste ore è intervenuto anche l'ordine degli avvocati. Il presidente, Tullio Bertolino, fa sapere che in primo luogo va ben tenuto presente che Palazzo Gadaleta, seppur abbandonato a se stesso, non è pericolante e gli ultimi episodi che l'hanno riguardato non ne hanno minimamente minato la stabilità. Infatti il provvedimento di sequestro della Procura della Repubblica ha riguardato solo tre locali ed una piccolissima parte dell'astrico solare. L'ordine degli avvocati di Trani, insiste il presidente, segue la vicenda relativa all'edilizia giudiziaria quotidianamente, così come ogni giorno è intervenuto per soccorrere la pubblica amministrazione che non poteva provvedere ad alcuni interventi urgenti sugli edifici, sede dell'attività giudiziaria. Il Tribunale di Trani, che ha una storia di oltre 800 anni, resterà a Trani, magari con una diversa e più efficiente sistemazione, a dispetto di chiunque voglia approfittare di una situazione di difficoltà per augurarsi il trasloco degli uffici giudiziari. In quale sede, poi? Oltretutto, si tenga conto che se si inizia a pretendere lo spostamento dei palazzi di giustizia in altre città, si apre la strada allo sfaldamento dello stesso Tribunale di Trani, con la possibilità che le strutture, a causa della lotta politica intestina tra le varie sedi della provincia, vengano trasferite tutte a Bari. Ciò comporterebbe, spiega Bertolino, solo ed esclusivamente ulteriori sacrifici per i cittadini che, per ottenere giustizia, sarebbero costretti a sostenere ulteriori spese, oltre quelle già cospicue previste dalla legge. Si pensi solo agli abitanti di Minervino Murgio o di Spinazzola, che già oggi compiono un autentico viaggio per giungere a Trani e che sono stati privati del presidio di giustizia diretto, i quali sarebbero costretti ad intraprendere una spedizione di oltre 100 chilometri per poter tutelare i propri diritti. Ma si pensi anche agli stessi cittadini di Barletta o di Andria, che oggi percorrono solo 15 chilometri per poter chiedere giustizia, costretti a recarsi nel capologo pugliese. Se questo è il traguardo cui si vuol giungere, allora si dia pure inizio alla gara, conclude Bertolino, ma il Tribunale di Trani resterà a Trani e, in questo senso, l'avocatura di tutto il circondario continuerà a battersi.